La canditura, metodo di conservazione antichissimo. Già la Cina e Mesopotamia conservavano prodotti alimentari in sciroppi di palma e miele, ma i veri procursori erano gli arabi che nei loro banchetti utilizzavano rose candite con sciroppi di miele. Oggi la tecnologia ha fatto un passo da gigante. Questo è il cestello per canditura. Possiamo mettere la nostra frutta di vario taglio o anche ortaggi. Il sistema Robocubo consiste nel mettere all'interno della vasca dello sciroppo per canditura dove in meno di 24 ore otteniamo il candito grazie all'utilizzo del sottovuoto. In questo caso accelera il processo osmotico donando una frutta candita morbida, lucente e veramente ottima. Quale miglior dolce per un'ottima colazione alla mattina? Una focaccia con i canditi realizzati con il sistema Robocubo. Qui abbiamo una focaccia con canditi di arancia e cedro. Qui un tris, un tris di arancio, cedro e limone. Abbiamo qui un candito sgocciolato, cubettato. Possiamo tagliarlo anche a listarelle più grosse. E qui un cedro. Guardate che trasparenza che ha questo genere. Grazie a tutti.